Ancora nessun caso grave registrato a Verona, due invece quelli a livello regionale, ma è ancora presto, siamo in piena fase ascendente, da fine gennaio in poi si avrà il picco dell'influenza. La vaccinazione e il cardine della prevenzione si è ancora in tempo per vaccinarsi presso le ULS, ha ribadito oggi l'azienda ospedaliere integrata di Verona. Ed è questa l'arma migliore per combattere il virus che ha colpito tra il 30 dicembre e il 5 gennaio 13.500 veneti, quasi tre persone ogni mille. Anche per le persone sane il rischio di arrivare a casi gravi di influenza c'è. Tra il 2018 e il 2019 in Veneto sono morte 34 persone. I soggetti più a rischio sono bambini, donne incinta e ovviamente gli anziani over 65 già affetti da altre patologie croniche. Per questo è stato messo a punto in pronto soccorso anche il Codice Argento, un percorso privilegiato per gli ultrastettantenni che potranno godere di una via preferenziale. In Veneto sta aumentando in termini di incidenza, anche se siamo ancora più bassi rispetto alle regioni del centro Italia e del sud Italia, però sta aumentando. Sta aumentando soprattutto nelle fasce d'età giovani e nei bambini. Grazie a tutti.